Eseguiremo adesso, oh sole mio, al mandolino il maestro Pierangelo Febola e al secondo mandolino il maestro, l'allievo Mario Sarrubbi. Secondo mandolino. Buongiorno. 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 Grazie a tutti. E' più bello in me, oh sole mia, sta in fronte a te, oh sole, oh sole mia, sta in fronte a te. E' più bello in me, oh sole mia, sta in fronte a te. E' più bello in me, oh sole mia, sta in fronte a te. E' più bello in me, oh sole mia, sta in fronte a te. Ma non mi hai disc極ato, ti 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 Grazie a tutti